Molte cittadine oggi rinunciano alle visite proprio perché hanno una crisi anche di tipo economico e il sindaco Manfredo attraverso questa importante iniziativa abbiamo costruito questo villaggio della salute a piazza del plebiscito e darà l'opportunità a tutti quei cittadini che fuoriescono anche da quella che è la filiera di prevenzione e di cura di tutte le istituzioni sanitari della nostra città. Un villaggio della salute in piazza del plebiscito sabato 23 e domenica 24 settembre dalle 10 alle 18 si terrà salute per tutti le giornate napoletane dedicate alla salute e alla prevenzione al benessere. Lo scorso anno hanno partecipato 15.000 cittadini e sono state fornite più di 50.000 prescrizioni sia di tipo diagnostico che di tipo divulgativo e preventivo. Quest'anno parteciperanno in 75, sono presenti chiaramente oltre alle ASL con i patrocini ovviamente della regione dell'Università Federico II e anche la Van Vitelli, sono presenti tutti gli ordini professionali diciamo del settore della sanità. Presenteremo i nuovi mezzi ecologici perché molte patologie derivano anche dall'inquinamento sia acustico che di tipo ambientale. I cittadini potranno sottoporsi gratuitamente a visite mediche e screening diagnostici e ricevere informazioni sull'importanza della prevenzione. È un segnale di grande civiltà in un momento in cui va sostenuto sempre di più un servizio sanitario universale con un accesso libero da parte di tutti. Partecipa anche tu. L'appuntamento è in piazza del plebiscito sabato 23 e domenica 24 settembre.